Parco Italia ha l'obiettivo di lavorare sull'incredibile territorio italiano e sul sistema di aree protette che caratterizzano l'Italia. Penso che le persone si siano disabituate ad una natura nella sua versione più selvatica. Quello che va fatto probabilmente adesso è anche un lavoro culturale. Considerare il capitale naturale esistente come un luogo da proteggere è qualcosa di importante. La chiamata all'azione è veramente una chiamata all'azione adesso. Qualsiasi iniziativa che rimette l'uomo in dialogo con la natura e crea le basi per una coesistenza vera, secondo me il benvenuto è positivo.